Buonasera, siamo qua con Gloria e la domanda che ti porgo è cosa ha e cosa non ha funzionato stasera? Ma allora credo che nella partita di stasera ci siano tanti buoni spunti, ovviamente ci sono tanti alti e bassi da parte di entrambe le squadre, credo che sia un sintomo molto tipico di questo momento della stagione, quindi siamo agli inizi e ci sta. Probabilmente ci è mancata un po' di freddezza nei momenti che contano e un po' di lucidità e forse un po' di cattiveria, credo sia quello principalmente. E come valuti la tua prestazione? La mia prestazione? Allora stavamo valutando con lo staff il momento giusto per inserirmi nel sestetto, ma questa settimana abbiamo dovuto tamponare alcuni infortuni, quindi siamo proposte con una formazione diversa rispetto alla parità scorsa e quindi io cerco di dare quello che riesco al momento fisicamente e quando non ne ho più fisicamente cerco di darlo a livello di esperienza e animo, che credo sia la cosa che ci servirà di più andando avanti. Perfetto, grazie mille, buona salata. Grazie a voi.